Buonasera cari telespettatori di FanoTV, benvenuti a questo spazio di approfondimento dove spesso stiamo ospitando esponenti della scena politica fanese, proprio in virtù delle prossime elezioni amministrative del maggio. Allora questa sera ospitiamo una lista civica, la nuova Fano e abbiamo qui come ospite il suo fondatore Stefano Pollegioni che salutiamo, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora col quale affrontiamo subito un'argomentazione perché nuova Fano ha avuto una mutazione, è passata da associazione a lista civica, quindi capiamo anche il perché di questo percorso, proprio lo chiediamo a colui il quale ha guidato questo percorso. Allora che cosa è scattato per far sì che si arrivasse a questo risultato? Ma noi ci siamo partiti come associazione nuova Fano e il nostro intento era quello lì di continuare comunque ad occuparci dei problemi del territorio, di pensare a Fano e proprio nell'avvicinarsi delle prossime future amministrative all'interno del nostro direttivo è venuto fuori questa proposta, diciamo. Perché non poter dare più forza al nostro impegno partecipando e cercando di avere anche dei riferimenti all'interno del Consiglio Comunale. Quindi, diciamo, mutuando la sua esperienza anche in ambito locale, già da diversi anni l'impegno profuso suo a favore dei temi caldi della città è stato sempre evidenziato, sia sulla stampa, sulle interviste anche che abbiamo realizzato noi. Quindi c'è stato un apporto di fondo che è derivato dalla sua esperienza personale. Sì, senz'altro. Allora io ho avuto un'esperienza passata politica, sono stato anche segretario di un partito nazionale. Per me è stata un'esperienza molto forte, fondamentale, che mi ha formato. è stata importante. Però a un certo punto mi sono fermato a fare un ragionamento. Cioè l'impegno a livello nazionale, perché comunque io ero stato eletto nel congresso nazionale, avevo avuto una dirigenza nazionale, eccetera, eccetera, non mi permetteva di portare avanti in qualche modo, in maniera più forte e più approfondita, l'impegno per la città, che era l'aspetto a cui io tenevo moltissimo. Quindi ho deciso di cambiare in qualche modo rotta pur rimanendo in ottimi rapporti con quello che è stato il mio passato, perché non sono andato via per motivazioni, diciamo, di diatribe varie e quant'altro. Però in questa esperienza ho incontrato una... ho incontrato tra i cittadini questo senso in qualche modo di ormai di rassegnazione nei confronti della politica. Quindi l'idea è stata perché non tentare di ripassare un messaggio ai cittadini e soprattutto ai giovani. Io ricordo Giovanni Paolo II, santo Giovanni Paolo II, quando disse ai giovani, voi siete il sale della terra. E purtroppo anche tra i giovani ho trovato questa remissione nei confronti della politica, che purtroppo la politica è quella che decide di noi di tutto, anche dell'aria che respiriamo. Quindi non è possibile, secondo il mio punto di vista, accettare il fatto che questa rassegnazione diventi sempre più forte anche tra i giovani. Quindi il nostro, attraverso la Nuova Fano, vuole essere anche un invito forte a tornare ad impegnarsi di quella cosa che ci riguarda in maniera molto fondamentale. Noi siamo comunque una lista cattolica, attenta alla nostra cultura cattolica, ci teniamo moltissimo ai temi della famiglia, ci teniamo moltissimo ai temi della vita, dall'inizio fino alla fine, dal nascere fino alla fine. E quindi chiediamo ai cittadini, anche in questo caso, attraverso questa nostra presentazione, di poterci guardare con questi occhi e cominciare a vedere forse anche attraverso noi un cambiamento che vogliamo dare anche allo scenario politico, perché questa lista è una lista formata da persone nuove, da volti nuovi, ma però che hanno competenza ed è una cosa molto importante. Sicuramente, quindi un impegno personale svincolato da Sigli, da partire, per essere ancora più incisivo nel lagone cittadino. Da qui si è capito anche il perché, forse l'appoggio a Lucia Tarsi, nel vostro DNA sta forse la motivazione più giusta. Allora, intanto ci tengo a precisare un aspetto importante e fondamentale della nostra associazione legata alla lista civica, che è il famoso laboratorio. Noi abbiamo distribuito molti volantini, dove cerchiamo di spiegare questo. Il laboratorio che noi pensiamo è proprio questo richiamo dei cittadini e la competenza che insieme lavorano per la città. E l'abbiamo testimoniato anche ultimamente con alcuni nostri interventi, per esempio legati alla bretella stradale Fano-Bellocchi, dove ci siamo riuniti in un tavolino con persone che hanno competenze in materia, perché è importante per noi capire, conoscere, per poi agire. La Tarsi ci ha dato una grande motivazione in tutto questo. Prima di tutti perché sicuramente anche la sua vita, che viene dalla sua professione, quindi la professoressa che tende ad insegnare, ma tende molto anche, proprio ci tiene molto al discorso del valore e del conoscere, quindi all'aspetto culturale delle cose. L'abbiamo ritenuta una persona molto adatta per noi, per la città, perché crediamo che i cittadini oggi abbiano bisogno di vedere volti nuovi che si impegnano nello scenario della politica e anche competenti. E Lucia Tarsi, noi l'abbiamo toccato con mano, ha una forte competenza, sa di cosa parla, ha una forte conoscenza anche della città, dei problemi del territorio e quant'altro. Quindi l'abbiamo sempre, ma già da tempo, da prima che si decidesse per lei, l'abbiamo sempre pensata come una futura candidata a sindaco per Fano, ottima. Ottima. Allora, stare in mezzo alla gente, conoscere i problemi della gente, sentirli, ascoltarli, questo è sempre stato alla base anche di quello che è stata l'esperienza in consiglio comunale. Quindi è anche questo il vostro modo di fare politica, di intenderla politica? Assolutamente sì, è fondamentale. Perché i cittadini purtroppo si demotivano perché non vengono ascoltati. Perché noi ci troviamo, come adesso, in questi cinque anni con Fano, io lo devo dire, Fano è stata nelle mani delle logiche di partito, nelle mani dei sistemi di partito. I cittadini sono stati poco ascoltati, Fano è stata molto immersa, abbiamo visto il degrado, abbiamo visto tante cose che sono state segnalate dai cittadini e che non sono stati mai ascoltati. È fondamentale perché noi, se andiamo ad amministrare, ci andiamo perché è il cittadino che ci manda. E questo è anche un altro aspetto della nuova Fano. Cioè il cittadino deve tornare, non deve rassegnarsi, perché questa è la motivazione che permette a certi personaggi dello scenario politico a rimanere attaccato a certe poltrone. Ma quando il cittadino torna ad impegnarsi, ad essere presente, a guardare e a seguire quello che fanno gli amministratori che stanno lì perché sono stati votati dai cittadini, sicuramente la musica cambia. Io ho uno slogan, la politica è un impegno e un servizio per l'altro, non per noi. Quando noi diciamo che da serviti cittadini diventiamo servitori, è importante questa cosa. Certo. Allora, tocchiamo un tema che le è caro, che vi è caro come lista e che affronterete in più sfaccettature. La sanità, ospedale unico, clinica privata, pronto soccorso, insomma quali sono i mali attavici del Santa Croce. Allora, intanto io voglio dire qualcosa sulle dichiarazioni del Sindaco Seri alla sua Kermes al Teatro della Fortuna qualche giorno fa. Vorrei ricordare al Sindaco Seri che nel 2012, quando lui dice che la colpa è degli altri, nel 2012 lui era assessore alla provincia e insieme a Ricci, che era presidente della provincia, hanno avvallato insieme anche alle altre amministrazioni, compresa quella del 2012, la costruzione dell'ospedale cosiddetto unico di Fosso Seore. Vorrei ricordare anche questo, che a quei tempi non è che la colpa era degli altri, a quei tempi si parlava di un ospedale unico per Fano e Pesaro di eccellenza e quindi si cercava una posizione adatta per le due città, ma non si parlava della chiusura di tutti gli altri ospedali. La chiusura degli altri ospedali e lo scempio che stanno portando avanti adesso a danno dei cittadini a cui stanno togliendo il diritto di potersi curare è partito da Cericioli ed è partito da questa amministrazione a Fano che si è piegata alle logiche del partito del PD e di tutti gli altri, a danno anche della nostra città. Tanto è vero che il famoso documento che si sbandiera tantissimo non parla di reparti. Se noi andiamo a Fano, a Fano ci sono degli pseudo reparti. I reparti veri e propri sono a Pesaro, non sono più a Fano e questo lo vedono i cittadini. Lo stesso Seri alla sua Kermes disse, scusate che leggo perché per dire le testuali parole, Seri disse sul discorso del Santa Croce che quando verrà costruito l'ospedale unico a cui noi diciamo di no, sia ben chiaro, noi vogliamo che non sia costruito l'ospedale unico provinciale che vengano riaperti tutti gli altri ospedali perché l'ospedale unico è un danno. 350.000 cittadini tutti concentrati dentro un imbuto diventerà una cosa impossibile e questo progetto non è stato mai acquisito, avvallato da altre regioni che hanno tenuto e valorizzato tutti gli altri ospedali aperti, mentre invece non si sa il perché da noi questa cosa è stata avvallata. Seri disse, rimarranno alcune cose, bisogna fare molta attenzione alle parole, se noi facciamo soltanto i conti dei posti letto, l'ospedale unico prevede se non sbaglio 600-610 poco più posti letto, l'ospedale unico provinciale, che è la somma dei posti letto del Sal Salvatore che sarà chiuso, perché l'ospedale unico sarà a Pesaro, dello stesso Muraglia che c'è già attualmente, del Santa Croce, aggiungiamoci anche 50 posti convenzionati della clinica privata, questo significa automaticamente che l'ospedale di Fano sarà chiuso, rimarrà qualcosa, rimarrà una diagnostica, rimarrà una lungodeggenza forse o una RSA e nient'altro. Allora questa è la visione della sanità, ma tocchiamo un altro argomento che conoscete bene e che porterete avanti come tematiche per il futuro, la sicurezza. Fano ha bisogno di sicurezza, ma la risposta in questi termini per voi come va data? Allora, intanto Fano ha bisogno di sicurezza e io anche qui contraddico le dichiarazioni di serie di qualche giorno fa, nel senso che non bisogna mai abbassare la guardia. Ho avuto sempre molte remore sul discorso delle statistiche eccetera eccetera e lo dico anche perché in virtù anche del mio passato lavorativo, io ho fatto parte delle forze dell'ordine e c'è stato un periodo che mi sono occupato proprio di questo. Quindi quando si parla dell'abbassamento, della diminuzione della metà dei furti a Fano, come se ci si erge come colui che ha vinto qualcosa? No, un momento. I furti vanno e vengono. Ci sono dei periodi dove ci sono anche forti diminuzioni, dei periodi che ci sono un forte innalzamento dei furti. E poi nelle statistiche i furti vengono tutti inglobati in un'unica voce. Quindi bisogna vedere che tipo di furti e quindi bisogna capire anche che tipo di forza, reati c'è o meno, insomma, in un certo senso. Quindi sul discorso della sicurezza, ripeto, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna fare delle cose. E non bisogna mai, non bisogna farsi i promotori di qualcosa come sono le telecamere che risolvono tutto, perché le telecamere sono una cosa importantissima, ma la sicurezza è della polizia e dei carabinieri che stanno fuori, fanno vigilanza, controllano le persone e dove c'è l'arresto lo fanno, dove devono intervenire intervengono. E noi abbiamo un grosso problema, purtroppo affano, perché abbiamo un commissariato che va innalzato di livello proprio perché possa ripianare l'organico mancante e la terza città delle Marche ha bisogno di un commissariato con del personale. Ma il Comune ha il dovere, l'amministrazione comunale ha il dovere di dare delle risposte anche ai cittadini sulla sicurezza e ha il dovere di impegnarsi mettendo proprio sul terreno le proprie possibilità. Noi riteniamo che abbiamo fatto delle proposte, brevemente dico che la Nuova Fano ha fatto un progetto richiesto dal prefetto Visconti a quei tempi, avvallato poi dal prefetto Pizzi. Io ho una lettera del prefetto Pizzi dove disse che alcuni aspetti, diversi aspetti delle nostre proposte le stava portando nei vari tavoli per l'ordine della sicurezza locali, comunali, eccetera, eccetera. Alcune cose sono state fatte in alcuni comuni, ho visto. A Fano siamo stati purtroppo poco ascoltati. Abbiamo fatto diverse proposte e certamente il Comune deve riorganizzare la Polizia Municipale che abbia, che dia un servizio un po' diverso da quello che è stato adesso, perché questi sono poliziotti a tutti gli effetti. Hanno una divisa, hanno un'arma di ordinanza, sono anche polizia, hanno qualifiche come Polizia Giudiziaria. Non dico che devono fare per forza gli arresti o intervenire nelle rapine, ma il servizio di vigilanza e controllo fuori anche di notte, in collaborazione con le forze dell'ordine, è molto importante. Fano avrebbe molta più sicurezza. Noi abbiamo fatto anche altre proposte inerenti alla sicurezza che abbiamo inserito all'interno del programma di coalizione. Adesso certamente non c'è il tempo e anche per delicatezza non voglio dirle perché spetterà alla candidata Lucia Tarsi parlare di programmi. Dopodiché noi approfondiremo poi eventualmente tutto quello lì che abbiamo pensato per Fano. Ma una cosa la posso dire, che posso portare la mia esperienza riguardo alla sicurezza, che non è poco, perché sono oltre una trentina di anni sul terreno e Fano può essere tranquillamente messa in sicurezza. Ci sono tante possibilità per poterlo fare. Ci vuole la volontà, ci vuole la voglia, ci vuole il coraggio di investire per Fano, per la città. Questo sicuramente sì. Bene, ringraziamo Stefano Polegioni, il fondatore della Nuova Fano, lista civica che sarà partecipe della competizione politica prossima avventura. Appoggiano la candidatura di Lucia Tarsi, abbiamo toccato, sorvolato solo alcune tematiche, però forse quelle diciamo un po' più che vi stanno a cuore, ma avete un programma sicuramente di impegno politico molto vasto e articolato, che impareremo a conoscere nel tempo, però intanto abbiamo avuto una bella finestra sulla vostra proposta. Grazie. Grazie a Stefano Polegioni per essere stato qui. Grazie a voi. Grazie a Stefano Polegioni per essere stato qui. Grazie a tutti.